È stata approvata la proposta di legge che punta a definire un programma di salute pubblica e di diagnosi tramite screening, destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nella fascia di età da 1 a 17 anni. L'obiettivo è quello di identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. In Abruzzo abbiamo circa 700 minori affetti da diabete con il Servizio regionale di Diabetologia Pediatrica dell'Azienda Sanitaria Locale 2, diretta dal dottor Tumini. Sono stati organizzati diversi incontri sull'inserimento del bambino con diabete nella scuola, che hanno inciso sia sulla qualità di vita delle famiglie che sul controllo metabolico degli alunni con diabete. Un programma che ha permesso di evidenziare come l'incompleta conoscenza del diabete infantile possa compromettere la possibilità per gli insegnanti di poter svolgere la propria funzione di educatori senza paura e senza stress. In Abruzzo, in particolare per il diabete infantile, sono state avviate diverse iniziative da parte del centro di riferimento regionale. Lo scopo è quello di favorire l'inserimento del bambino con diabete e aumentare il livello di conoscenza della malattia nelle scuole. Recentemente, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge per finanziare i soggiorni educativi per bimbi e adolescenti con diabete. Il professor Tumini dice che la possibilità di effettuare uno screening sierologico sulla popolazione potrebbe permettere di individuare i soggetti che stanno sviluppando il diabete di tipo 1 in fase preclinica, scongiurando la chetoacitosi e i pazienti celiaci pauciasintomatici, che potrebbero rimanere non diagnosticati con enormi conseguenze negative. È stato costituito poi il tavolo tecnico regionale sociosanitario per acquisire tutti i dati delle patologie sociosanitarie e di morti improvvise nella fascia di età 0-17 anni. La realizzazione di questo piano di lavoro, anche in ambito scolastico, rappresenta un reale supporto per le famiglie e per i bambini affetti da queste patologie.